SIGLA Sarà meglio che io lasci Firenze. E dove andresti? Mio zio Mario ha una villa vicino a Monte Ligioni. Sei ancora ricercato, Ezio. Che vuoi che faccia allora? Ho visto dei manifesti appesi nel distretto. Strappali e la gente si scorderà la tua faccia. Anche i banditori istigano la popolazione. Potresti corromperli così che parlino d'altro. O potresti cercare i falsi testimoni a tuo carico. Hanno venduto la propria dignità. Nessuno ne piangerà la scomparsa. Fa una qualunque di queste cose e sarai libero di partire. Ho aggiunto un programma di rilevazione di notorietà. Questa barretta ti aiuterà a capire a che punto sei tra notorio e incognito. Dovrebbe aiutarti a capire se devi controllare le tue azioni. Ti dirai anche se il livello di notorietà dipende da Ezio o da te. Ora muoveremo. Spazio di fuggire! Qualcosa vi offricce, amico? Non lo vedo. Laggiù! La! La! Su! Coraggio! Non c'entra nulla! Non c'entra nulla! Non c'entra nulla! Conosco quell'uomo. Ma non era lui. Qualcuno dovrebbe andare in giro così? Ehi! La! Ehi! Ehi! La! Dagiù! Basta! Non mi hai fatto la finita! Bentornato, Ezio! Ci sei riuscito? Sì! Madre! Ed! Ma dove sei stato? Non volevano lasciarci andare e nostra madre non ha detto una sola parola da quando abbiamo lasciato casa! Nostro padre dovrà sistemare tutto! Nostro padre dovrà sistemare tutto! Ma lui dov'è? E' Federico? E' Petruccio? E' successa una disgrazia! Che cosa vuoi dire? No! E' impossibile! No! E' impossibile! Claudia! Ti spiace padare a nostra madre! Allora siamo pronti! Grazie di nuovo! Di tutto! Stai in guardia Ezio! Sei in cauto! La strada davanti a voi è molto lunga! Puliti! Il Dio lo manda a pulire! Non volevo non capire! Via di qui! Bene! Siete un amante della musica! Abbiamo venuta! Table! Come vadore! Questa è un amante della musica! E Cristo? Ho supportato gli cooperativiτο! A sono passato le calorie... Esatto! Qual è il tuo design di unaamdatcina ": Suite Ex aveva una borsa! Grazie. 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 Come è potuto accadere proprio a noi? Non lo so. Aspettate. Come? Non faremo mai il ritorno? Non lo so.